signore e signori sono tornato su questo meraviglioso gioco signore e signori sono tornato su questo gioco meraviglioso oh benissimo registrando ok allora benissimo allora oggi penso di fare tanta roba su questo gioco tanta tanta bella roba ok cominciamo cominciamo subito allora io non so cosa scegliere sinceramente l'amore l'amore già stato si deve avere bello signore ma questo non so controllare faremo qualcosa di nuovo su epilis non facciamo questi nuovi non è vero che si fa sono belli non saprei per esempio non c'è effettivamente signori quindi ma se il mio mouse magari non si sbaglia a cliccare oh perfetto andiamo allora siamo con eddie signori eeeh non so qualche dovremmo fare non lo so giuro giuro che non so non mi potrei aspettare mai da questo gioco eeeh ok non è così ma ok non ci ho capito una beata mamma mia non ci ho capito niente signori perché perché ci ho non ho piccato il pisello boh vabbè allora vabbè ho capito devo cercare di evitare le frecce anche se so che non sarà tanto facile ok vengono nooo no signori no così non va signori non va ok allora ripartiamo dall'inizio eddie va bene ok nooo non così nooo si così nooo non è così siiii raga oggi uuuuuh eddie mi sta facendo sclerare si nooo mia eddie almeno questo rialzati in piedi porca miseria nooo 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 poca miseria nooo 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 ok ok vai così raga vai vediamo ce la facciamo oh si ah si siiii vai così signori c'è 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 allora vi ricordo che siamo solo al fottuto primo livello di questa puntata cioè sono diventato veramente troppo scarso e quindi se c'è ma mi va bene tutto signori c'è c'è ciò mi ricordo che io a eddie l'ho lasciato più mi sa di un mese che non riportavo le pivis e non so più giocare porca di quel mondo di parte c'è ma non era vero va bene questo livello non era uno dei migliori eh c'è anche il pokemon training che magari dopo potrei anche andare a provarlo ma non so che cosa fare andiamo su speed bridge ok siamo con il padre di Luke e Luke ovviamente e andiamo perchè io non ho paura delle rampe signori no io non ho paura vai così allora raga forse questo qua ci riesce al primo tentativo ma ricordatevi raga mai cantare vittoria signori mai cantarla la vittoria mai mmm 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 riproviamo per l'ennesima volta raga allora allora spero che i video che faccio io sono corti però spero che mi facciano un po' di compagnia anche se sono un po' corti ok andiamo così vai ok qui raga ricordo che fra pochi giorni ci sarà una mia direta youtube che è qua su youtube e quindi venite a seguirmi penso che sia fra... penso di farla fra una o due settimane e quindi venite a seguirmi penso che sia fra... penso di farla fra una o due settimane e quindi venite a seguirmi. la live e niente dai e niente dai niente per tutti quelli che mi sopportano vado a mettere un mi piace condividete anche questo video e niente per dire sempre di condividere e siamo morti di nuovo come di cani dai che non puoi morire così allora io riprovo l'ultima volta poi se ne so questa volta allora io blocco la puntata e ci vediamo una volta è stata sempre di epilis ora per chi non ha visto l'ultimo giornamento dell'epilis sul mio canale vado a vedere perché ci sono delle novità assurde per chi non l'ha visto eeeh ok ok per adesso va tutto bene ok magari esattirlo senza e mi sembrava sano che non dovevo morire va bene dai questa puntata che può finire qua e ci vediamo in un'altra puntata ciaoone